festa del cinema di roma all'interno dello spazio fs questa volta abbiamo ospite un regista e un attore rispettivamente emiliano corapi e francesco colella che presentano sospisios minds un film ambientato a roma il regista emiliano è proprio romano che responsabilità è raccontare roma in questa maniera tra l'altro permettimi di dire se è stato molto abile a farci vedere piazze e vie non così inflazionate no piazza della repubblica via cavour una bella roma ma non così cinematografica si diciamo la storia la storia di due coppie che sono a roma e in viaggio sono quindi la storia di due turisti quindi lo sguardo è quello di persone che non sono di questa città quindi anche il mio sguardo era legato diciamo a questo punto di vista e mi piaceva stare nei posti dove normalmente stanno i turisti senza il che la città diventasse particolarmente invadente perché poi roma è un attimo che esce fuori e ti distruggi quindi sia quello sia anche diciamo la palette che avevamo scelto e del proprio a livello di colori per raccontare la situazione quella che si diceva secondo noi più al film e ci ha portato in zone dove abbiamo fatto uscire diciamo colori un po più freddi rispetto alla città che è tanto rosso e però l'aspetto fondamentale è quello appunto del fatto che si tratta di turisti che girano la città in posti e strafamosi senza far vedere effettivamente dove stanno poi e questo senso è stato apprezzato parecchio dal sottoscritto passiamo a francesco la storia racconta le vicissitudini di due coppie che non si conoscono che poi si conosceranno perché condividono l'albergo l'hotel dove vivono ma soprattutto condividono un episodio che sarà caratterizzante per l'evolversi della storia senza svelare l'evolversi della storia però sveliamo questo aspetto che io ho notato come spettatore ovvero che i personaggi all'interno di questa pellicola all'interno dell'ora e mezza circa insomma dell'evolversi del film cambiano molto spesso colui che sembra poco geloso diventerà molto geloso la coppia che sembra più forte in realtà potrebbe esserlo meno e la persona disinteressata diventa interessata ad attore quindi come è notato questa questo continuo evolversi del ruolo diventa faticoso diventa performante poter recitare un ruolo di questo tipo no performante no perché non cerco di non quando lavoro di non rendere niente performativo non vivo il lavoro in senso performativo la recitazione è un mezzo di conoscenza un film come questo film è uno spaccato di vita diciamo che è una concentrazione di vita più densa dove come succede nell'esistenza di ognuno accadono delle cose anche dei piccoli accadimenti come in questo film dei piccoli eventi o dei piccoli incidenti un dettaglio può provocare una detonazione molto potente anche nell'esistenza di un individuo in questo caso per esempio per quanto riguarda il mio personaggio accade questo un uomo realizzato nel suo lavoro si sembra sia realizzato anche dal punto di vista amoroso con la sua moglie invece accadono delle cose in qualche modo gli fanno cedere il terreno da sotto i piedi e li mette in discussione i suoi stessi sentimenti poi sai queste evoluzioni dei personaggi quando c'è una sceneggiatura solida e ben scritta tu sei sotto lo sguardo di una persona che è partita da una scintilla di invenzione poi ha scritto la storia la sviluppata ne ha scritto la sceneggiatura e la diretta cioè questo film è una creatura proprio di emiliano quindi tutti sottoponi al suo sguardo quindi per me era già una certezza farmi guidare da lui e vedere quello che sarebbe accaduto durante diciamo le evoluzioni di questa lavorazione di questo film insomma ero 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 facilitato da questo stavo al sicuro non dovevo che seguire il flusso di questa storia e reagire a quanto accadeva esatto questo è molto bello perché dal punto di vista dello spettatore noi viviamo una turbolenza di emozioni mentre per voi tutto lineare perché insomma state lì proprio per raccontare questa storia passiamo al regista mi interessa la genesi di questo film c'è quell'episodio cardine insomma svediamolo di un ascensore che si ferma all'interno di questo hotel dove due persone delle rispettive coppie si conoscono e da lì iniziano una serie di drammi e vicissitudini l'episodio dell'ascensore è successivo o nasce insieme alla creazione di questa storia no no quello è proprio lo spunto iniziale il film è partito proprio dall'idea di due persone sconosciute che si trovano bloccate in un ascensore e vengono liberate ma nei rispettivi partner e si insinua il dubbio che sia successo qualcosa questo poi è il diciamo il lo sprovo lo spunto iniziale è rimasto uno spunto per tanto tempo come tantissime ne ha nota però per me era poteva generare qualcosa di interessante poi nel tempo sono arrivate quelle idee quelle svolte che hanno portato poi a a dire oddio si può sviluppare la storia di solito succede quando e riesce a mettere su un passaggio che ti illumina sul significato del racconto e ti fa dire oddio questa storia parla effettivamente di questo potrebbe essere una buona storia per raccontare questa situazione questo questo sentimento questo questa emozione quindi però lo spunto è rimasto tale per tantissimo tempo torniamo a colui che ha recitato nel film ci sono queste due coppie che rappresentano due generazioni diverse dal punto di vista anagrafico così due generazioni diverse anagraficamente anche per quanto riguarda la vostra professione due mondi attoriali leggermente diversi dal punto di vista del tempo questo sul set si è notato o è anche questo un ulteriore stimolo avere magari un partner più giovane guarda la fortuna è stata quella di tu a volte ti trovi a lavorare con dei colleghi e ognuno professionalmente fa il proprio però quando si parte poi da un terreno che è un terreno come come è avvenuto in questo film dove l'attrice che è tecla reuten nell'attrice che fa mia moglie emiliano in questo io lo ringrazio molto ci ha tenuto molto a voler fare delle prove prima del film dove abbiamo conosciuto la sceneggiatura e abbiamo cercato quelle che sono le dinamiche relazionali in più ho avuto la fortuna di conoscere una donna intelligentissima è dotata di una grande simpatia oltre che di empatia quindi prima ancora di provare insieme io avevo già capito che sarebbe stato bello recitare con questa persona perché lei si è aperta in una maniera tale dove come dire quelli quelle difese che un attore di solito mette per cercare di capire il proprio interlocutore erano già state abbattute quindi questo ci ha permesso anche di lavorare insieme e in più le sollecitazioni di emiliano che che in qualche modo ci indicavano che strada per seguire per intervenire questi personaggi insomma tutto questo è stato un lavoro che 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 è stato molto bello e poi l'incontro con degli attori più giovani sai il fatto non è generazionale il fatto è come prendi questo mestiere quei due ragazzi c'è oscar matteo giuggioli e amanda campana sono due ragazzi che intanto molto responsabili e molto consapevoli della propria professione e poi a proposito di performance quando si parla di performance ecco quei due ragazzi sono persone che utilizzano la recitazione il recitare come mezzo di conoscenza interiore quindi attraverso i personaggi vedere questa predisposizione ovviamente fa in modo che poi il lavoro costruito insieme sia un lavoro che in qualche modo sai tu puoi giudicare i principi dove parti l'effetto ovviamente lo vedrà il pubblico però io penso e sono testimone di un'esperienza per me artisticamente molto importante prima di chiudere con il regista voglio sottolineare una cosa per quanto riguarda una battuta è un film ovviamente che ti rimane addosso drammatico non fa certo ridere però permettimi da romano che un po sorriso quando hai detto gratta checca la granita a roma si chiama gratta checca molto bello tra l'altro è una è una è la gratta checca c'è una dell'estate come dire la mia manna dal cielo sperante no con il senso di noi romani che si chiama insomma gratta checca mi ha fatto molto sorridere per quanto sottolineiamo non faccia sorridere questo film chiudiamo su questo posso posso invece contraddirti certo secondo me il film ha un aspetto drammatico e questo film fa anche sorridere ma solo per il fatto che questi personaggi hanno a volte delle consapevolezze sulle proprie fragilità tali da riuscire a raccontarle nelle volvere sì 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 che è armonioso più ma io lo dico da spettatore sì sì non è vero è vero c'è che regala armonia chiudiamo quindi con il director il regista film che ha un titolo inglese è una coproduzione italiana francese se non erro una storia che ambienta a roma potrebbe essere anche ambientata a oslo c'è l'ambizione di portarlo fuori dall'italia per me dovrebbe a tutte le carte regola per poterlo essere poi non sono io che lo devo dire sarà sarà chi ci lavorerà nella distribuzione comunque io spero proprio di sì su spesso minds benvenuti ben trovati qui allo spazio fs grazie per questa bella intervista grazie mille grazie grazie